L'aspetto più interessante è stato probabilmente la riflessione su come si sta evolvendo tutta la proprietà intellettuale, il valore e che cosa significhi interpretare la creatività e la creazione di valore anche in una chiave femminile, dove per femminile si intende una capacità di coraggio, di rischio, di declinazione di valore legato molto al modo di fare, quindi le parole che sono state più ripetute sono state creatività, sono state necessità di rischio, necessità di coraggio, necessità di osare, di legittimarsi molto, quindi di esercitare, di trovare una chiave giusta per esercitare un potere che è un potere anche creativo, cioè di creare una serie di partecipare al processo produttivo e di declinare, dare un'interpretazione di quello che si fa in una chiave meno convenzionale forse. È un momento complesso perché tutta la normativa che tradizionalmente si tende a considerare in maniera poco collegata con tutta l'industria culturale e della comunicazione in generale, che ora sta trovando una nuova attualità, mi spiego meglio. La tutela del diritto d'autore adesso è diventata in generale dell'industria dei contenuti, non è più solo diritto d'autore, non è più solo media, ma è strettamente legata alla privacy, è strettamente legata ai dati, è strettamente legata all'e-commerce, è strettamente legata all'intelligenza artificiale, quindi in questo c'è una sfida importante, cioè la capacità di aprirsi a nuovi linguaggi, è una capacità di mettere insieme, di saper far parlare punti di vista diversi, modi di approcciare temi differenti e su questo l'industria dei contenuti ha una grandissima opportunità e una grande sfida, cioè quella di uscire un po' dai confini, che sono anche un po' al limite dell'eccezione culturale e quindi di riuscire a parlare in una maniera un pochino più contemporanea con tutto quello che è digitale, con tutto quello che è dati, con tutto quello che è tassazione, quindi una sfida grande, una sfida grande che si può fare. La creazione europea indipendente ha in particolare il dovere anche di occuparsi di questo tema perché è il tema. È stata una bella giornata, è stata una giornata non convenzionale, si è parlato sotto profili diversi di temi alti, è stata una bella occasione di incontro ed è stata anche una bella occasione di incontro tra fasce di età diverse, perché comunque tutte le relatrici avevano superato o erano intorno ai 40, il nostro pubblico era in parte della stessa età ma in parte più giovane e quindi la declinazione di alcuni temi aveva il vantaggio di non essere banale.